Sì, ma se la fai seppanate l'altra volta. Sì, ma se la fai seppanate l'altra volta. Vai maestro, la. Ma la ti contro, ascolti. E tu la contro. Tu sei una stra beciamella. Scusate. E' andato? Padre. Vai maresca. Vai che maresca. E che maresca. La ringrazio Pietro, la ringrazio. Yeah. Al nostro Mimmo Corcione, maestro. Avevi qualcosa da dire, Pietro? Dicono tutto loro. Emozionato, emozionato. Guardate, Pietro, che beciamella la mostra. Ecco. Eh, ancora, eh, boh. E' sempre i piatti che fai Corcione. Porcone. Un po' Schubert. Benissimo, è venuto. Delicato. Mimmo. E lo boh. E lo buh. E lo buh. E lo buh. E che dici, Carmine? Ottimo! Ottimo! E lo buh. da fare al nostro Maestro Corcione questo piatto. Gli allievi hanno superato il maestro. Super. Già che zammagniamo il Schubert, qui sc��ive. Grazie a tutti